Abbiamo fatto delle ingenuità, parliamoci chiaro, la squadra ha risposto sotto il profilo dell'impegno, però ci si può far buttare fuori in questa maniera qui, non si può subire un rigore in quella maniera lì, perché prima ha preso il piede e poi ha andato sul braccio, perciò da quando ha inventato il calcio si piglia da una parte e poi va sul braccio, non è il rigore, ma si vede cambiato il regolamento oggi, cacchio di te lo fai. Ma è quello che gli ho detto anche a lui, ma purtroppo è giusto così, abbiamo fatto delle ingenuità, abbiamo sbagliato e abbiamo perso, c'è poco da parlare, tutto qui. La squadra sotto l'aspetto dell'impegno io non gli posso dire niente, però se permetti in 11 contro 11 è tutta un'altra storia. Sì, ho capito, io non ho mai detto che ha giocato male, io ho detto che aveva avuto l'impegno giusto, si è comportata per quello che poteva fare in 9 contro 11 su un campo pesante, infatti i cambi in mezzo al campo erano per cercare di contenere meglio, però come vedi il calcio poi ti cambi, fai e poi pigli un gol a Bischero e poi ti viene subito dietro l'altro. Perciò abbiamo avuto le nostre occasioni anche sul 2 a 1 per loro, abbiamo sbagliato, non so se c'era un rigore, non mi interessa, non l'ho nemmeno vista, ma che lo vado a rivedere. Però, dispiace, no, sconfitta così ti fa girare le palle e basta, perché non serve niente, perché non è che hai perso, l'altri t'hanno schiacciato, t'hanno fatto, hai perso, in inferiorità numerica, anche se loro, dalla parte loro, per carità di Dio, c'è un allenatore, poi li giudica, allora a me che me ne frega. Io dico che noi potevamo e dovevamo gestire meglio le situazioni delle espulsioni. Anche la prima, io capisco, vai per prendere la palla, ma forse se rifletti, ci vai con la testa, forse, poi ti fanno con lo stesso al limite, non lo so. Sì, è chiaro che nella seconda avessi avvisato così, qualcosa di... Sì, l'avevo già avvisato, perché aveva già fatto un'entrata e se trovi un altro, poi, no, no, è un ragazzo che molto probabilmente in questa giornata qui ha peccato di lucidità, è sempre stato uno dei più positivi, però oggi ha sbagliato, parliamoci chiaro, poi ne parleremo domani mattina prima di essere lasciati liberi, però oggi ha sbagliato. Grazie.